Il Marsala esce a testa altissima dalla sfida contro l'Akragas, un bel secondo tempo, nel finale però avete concesso il gol della vittoria all'Akragas. Certo, è stata una partita equilibrata, una bella partita, abbiamo giocato a viso aperto entrambe le squadre, ovviamente in queste categorie un minimo errore costa caro, comunque un'ora all'Akragas, ma noi usciamo a testa alta e ripartiamo martedì per pensare alla prossima partita. Alla fine cosa ha fatto la differenza tra le due formazioni? Innanzitutto noi fisicamente di settimana in settimana stiamo migliorando, come è ben noto siamo partiti in ritardo con la preparazione atletica, però stiamo assimilando perfettamente quello che c'è del mister, il mister Tortora, siamo tutti con lui ovviamente, questo è molto importante perché noi in tutte le squadre l'allenatore viene seguito, quindi dobbiamo solo lavorare, lavorare e i risultati arriveranno. E' ancora presto per dirlo, ma dove può arrivare questo Marsala? Allora, ad oggi noi pensiamo veramente a giocare a settimana dopo settimana, quindi a partita dopo partita, quindi vedremo, vedremo a fine stagione dove arriveremo. Presidente, quanto brucia questa sconfitta? Brucia, brucia tantissimo, c'è tanta amarezza anche perché è una sconfitta che non meritavamo, però faccio i miei complimenti all'Agragas per la vittoria e per averci ospitato nel migliore dei modi, e do un grosso in bocca al lupo anche al Presidente per il suo nuovo percorso. Tutto qui, c'è tanta amarezza per questa sconfitta ma usciamo a testa alto. Marsala che ha cercato la vittoria fino all'ultimo, poi la beffa finale. Purtroppo questo è il calcio, questo è il calcio, è un contropiede fatale che ci ha costato appunto i tre punti, anche un punto, ecco, però questo è il calcio, dico, va bene così. Abiettivi del Marsala? Come ha detto il capitano, guardiamo partita dopo partita e poi a fine anno vedremo dove saremo.